Il Comune è in cerca di canali di comunicazione. Il Sindaco Pavan annuncia di avere intenzione di attivare al più presto, i tempi del progetto non sono ancora operativi, dei canali di informazione per poter arrivare ai cittadini nella via più diretta possibile. Da un lato c'è una lista dove i bassanesi potranno iscriversi e attraverso la messaggistica ricevere le informazioni di servizio da parte dell'amministrazione comunale. Due saranno le linee di azione, creeremo delle liste alle quali i cittadini possono iscriversi e dalle quali riceveranno le informazioni più importanti della nostra città. Possono essere i disagi perché si sta asfaltando una strada in un determinato giorno, può essere anche l'opportunità di avvertire dello scadere di bandi per l'inserimento nelle liste per le case popolari. La trasversalità sull'informazione sarà massima e sempre con l'intento di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini. L'altra idea è quella di un'app sulla scorta di quanto fanno altre città venete come per esempio Padova. Creare probabilmente tramite un'app da scaricare sul telefonino il sistema di segnalazioni delle problematiche nella nostra città. Stiamo anche capendo come gestire poi con gli uffici interni perché queste segnalazioni possano essere evase con tempi ragionevoli e dare risposte quindi ai cittadini. Poi senza nulla a togliere alla utile e doverosa iniziativa del Comune c'è il terzo sistema che è quello più sicuro di tutti. Oltre a mandare le segnalazioni al Comune continuate a mandarle a noi a Rete Veneta. Sapete che c'è la garanzia che non le metteremo sotto lo zerbino.